Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. La staticità atmosferica che ormai abbraccia la nostra penisola da numerosi giorni potrebbe subire un primo ridimensionamento già a partito dalla giornata di domani e ancora di più da mercoledì per l'avvicinarsi di un flusso perturbato nordatlantico destinato principalmente all'Europa occidentale ma che potrebbe parzialmente interessare anche le regioni occidentali dell'Italia. Pertanto per domani tempo soleggiato nei settori orientali e nuvolosità in aumento in quelli occidentali dal pomeriggio. In Abruzzo possibile foschie o nebbie notturne soprattutto nelle conche aquilane mentre per domani il tempo sarà sempre piuttosto soleggiato in particolar modo nei settori orientali ma dal pomeriggio sera avremo un incremento della nuvolosità segno di un primo debole cambiamento in arrivo. La ventilazione continuerà ad essere debole di direzione variabile ed il mare calmo ovunque. Le temperature minime di questa notte comprese tra 1 e 7 gradi e le massime di domani in leggero aumento comprese tra 12 e 17 gradi. Per il metro è tutto buon lunedì sera a voi.